Come avevo detto prima della partita in Polonia, queste partite hanno un duplice obiettivo da parte nostra. Uno è quello di consolidare la nostra identità. Vogliamo avere un modo di giocare, un modo basato su un gioco corale di squadra, un modo basato su una difesa un po' più fisica, una difesa un po' più presente, consistente, che possa usare anche le mani, visto che viene anche concesso. Quindi proprio usare il corpo, mettere il corpo davanti agli avversari. Questo deve essere quello che vogliamo ottenere per la nostra identità di gioco. Dopodiché, perché è una partita, abbiamo ancora l'opportunità con due risultati positivi di superare questo turno. In questo momento di convalescenza, siamo in convalescenza, anche un brodino come quello che abbiamo preso in Polonia è molto gustoso, è molto buono e saporito. Quindi se riusciamo a metterci dentro un po' di carne in più, tanto di guadagnato è il miglior auspicio per prepararsi alle prossime partite. È una partita che noi dobbiamo interpretare con molta fisicità, con molta presenza mentale, perché loro sono una squadra che dal punto di vista offensivo ha notevole qualità, notevole qualità con i due esterni americani, che sono McKissic, che è un ottimo tiratore, che abbiamo visto in Italia a Pesaro, veramente un tiratore da lontano e anche con buone situazioni percentuali. hanno una guardia a Harrison, che è un giovane uscito dall'università, anche lui tira tutto quello che gli capita per le mani, anche lui è anche da distanze notevoli, anche un po' fuori dai giochi, quindi ci vorrà grande attenzione da parte loro. Dopodiché un giocatore interni come Freemanis, un giocatore che riesce a avere buone, un giocatore che gioca da secondo lungo, che ha una buona qualità offensive, ottima mano, un buon punto di riferimento loro. Tutti questi fatti giocare da un playmaker di ordine, e quindi sono una squadra che è completa in tutti i reparti, distribuisce i punti su tutti i giocatori, poi questo per noi è una partita difensivamente molto attenta e importante. E dal punto di vista offensivo, giocare cercando di, come dicevo prima, una coralità, un gioco d'assieme, passandoci la palla, giocare più di passaggi che di palleggi. Loro sono una squadra che cerca di essere molto tattica, propongono tante cose diverse, dalle difese a uomo, le difese a zona, le difese miste, però noi dovremmo cercare di stare nel nostro spartito, fare la nostra palla canestro, cercare di avere noi il ritmo, dettare loro il ritmo e cercare di fare un aprito in attacco, senza stare a pensare a cosa abbiamo di fronte, ma a pensare alle nostre cose da fare.